Ciao Manuele, ciao Stino, dimmi che cos'è questo progetto, cosa avete combinato? Siamo un gruppo di amici che hanno steso questo tappeto, è un'impresa colossale Abbiamo finito adesso e adesso lo smonteremo In quanti avete lavorato per realizzare? 3 o 4 Ma queste cose le avete realizzate? Questo è stato fatto da tutte le associazioni, dai cremasco, dai laboratori nel mese di giugno Oggi facciamo questa installazione gigante Tutti i gruppi sono passati, i signori dalla casa di riposo, i signori con le carrozzine sono già venuti a vedere Dal GPS, dai girasoli, chi c'è stato? Ma come ti è venuta questa idea? Gli africani, i bambini che l'hanno disegnato, Niccolò che ha fatto tantissimi disegni E come ti è venuta questa idea di questo tappeto? Questa è un'idea che è nata all'interno di ArtShot per dare all'arte un significato, uno sfondo sociale Ci sta Direi assolutamente di sì Grazie, bel lavoro Grazie a te Ciao